Credo che il luogo a cui sono più affezionato sia certamente il luogo dove è custodito il corpo di Antonio, non solo perché c'è lui, ma perché si sente anche il respiro vivo di tante persone che li sono passate, che hanno toccato e che quindi hanno consegnato a lui tante intercessioni di preghiera. Custode della memoria di Antonio e della sua devozione è padre Antonio Ramina, vicentino di origine, il nuovo rettore della Basilica dopo la scelta fatta da Papa Francesco all'interno della terna dei nomi consegnata al Santo Padre dal capitolo provinciale dei Frati. Rettore del seminario teologico Sant'Antonio Dottore e guardiano di quella comunità accoglie il nuovo incarico nello stile francescano dell'obbedienza e della responsabilità. Un misto di emozioni, da un lato il timore, dato che conosciamo ben tutti come la realtà della Basilica del Santo sia molto impegnativa, dall'altro fiducia, so che non lavorerò da solo ma che posso contare su molti frati e altre persone in gamba e poi chiaramente anche la gratitudine dato che un compito così rappresentativo è per me anche un segno di fiducia, di responsabilità. Nel suo nome una traccia di quanto la provvidenza aveva immaginato per lui. Il nome mi era stato dato in onore di Antonio Abate, ma Antonio di Padova sceglie questo nome proprio in onore di Antonio Abate, quindi siamo in buona compagnia, in sintonia comunque con il Santo di Padova. Il legame tra Antonio e i suoi fedeli è cresciuto in questi mesi difficili della pandemia, una devozione capace di immaginare e pensare nuove vie, pronta a viverne altre. Ai frati e non solo al Rettore si è chiesto di continuare a dar voce alla voce di Antonio attraverso la preghiera, certamente attraverso la capacità di ascolto, di accoglienza di tutte le persone che arrivano qui e nella misura in cui è possibile la capacità di prendersi cura di tante forme di povertà che bussano alla porta anche della Basilica.